Quarto United contro Maklamadrin che si gioca sul campo del verde rame di Cagliari, terza giornata della Champions Cup Elite Open Serie A, il Quartu vuole la vetta solitaria della classifica, parte bene il mancino di Matteo Sizia finisce in pieno contro la traversa, lecca, graziato così come tutta la formazione ospite. La risposta da parte dei Blanco sporta soltanto a un calcio d'angolo, il Quartu capisce presto che non è serata, qui la seconda traversa colpita dalla formazione nero-rosa, poi Matteo Sizia avanza sulla sinistra, mancino esplosivo, lecca la sporca, quel tanto che basta ancora sul montante. Mura, fallo laterale battuto non benissimo, pallone intercettato dalla Makla con Puddu che riparte, cerca e trova il compagno, qui è bravissimo Matteo Sizia in fase di opposizione. C'è ancora tempo per osservare quest'altro numero del numero 10 della squadra di casa, ottimo ancora una volta, lecca che si ripete nel finale su quest'altro calcio di punizione, sempre da parte di Matteo Sizia. Ormai è un vero e proprio duello tra il 10 del Quartu e il portiere della Makla. Siamo adesso alla ripresa, Bardino da palla dietro per Lorenzo Puddu che esplode il destro e bravissimo Jonathan Hollano a dire di no. Ancora l'estremo difensore del Quartu si esalta, pochi minuti più tardi, poi occhio al contropiede della formazione nero-rosa, Mura in possesso di palla, conclusione bravo Lecca a chiudere lo spazio al numero 23. Poi Matteo Sizia rovesciata e palla sulla traversa, non è davvero serata per lui. Al minuto numero 36 passa la Makla con Lorenzo Puddu, vantaggio che però dura appena 60 secondi perché Matteo Sizia direttamente su calcio di punizione realizza un capolavoro che vale, come detto, il temporaneo 1-1. Il gol realizzato però dalla formazione ospite fa capire agli stessi che il colpaccio è possibile, infatti Lorenzo Puddu annusa questo colpaccio e la mette per il 2-1. Finita, ma che? Pirodi realizza così il 3-1. È il suo primo gol in questa stagione. Nel finale il quarto proverà a ridurre le distanze col tentativo da pochi passi da parte di Giuseppe Sizia nella circostanza, ancora una volta, strepitoso. Alessandro Lecca finisce così al campo del verde rame di Cagliari, quarto United 1-1, Maklamadrink 3. E adesso in testa c'è il Borussia Cagliari.